Ma ascolta, ma spiegami un po' questa cosa dell'hip hop che hai portato in Italia, fantastico, ma sei stato tu. No, no, io, io quando ho iniziato a ballare nell'89 eravamo uno dei primi gruppi che aveva iniziato a fare questo tipo di stile sia musicale che di danza. Mi vuoi fare qualche passo improvvisato di hip hop? Qualche passo? Ti rimetto la musica, aspetta. Anzi, sai cosa ti dico? Perché un'altra che mi fa impazzire quando balla, ma ve lo confesso, è Beatrice. Perché Beatrice ha un modo di ballare tutto suo. Bea, ti prego, ballate tu e Massimiliano. Però l'hip hop, sinceramente. È stupendo. L'hip hop non è proprio il mio genere, ci proverò. Per te questo è d'altro. Dai, che tu non ci deludi mai, vai. Signore e signori, ladies and gentlemen, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varese, i nostri popper. No, vabbè, siete due diti. Grazie. Grazie.